Sì, ho un'amica che hanno dovuto passare... ..e un'altra cosa... ..e un'altra cosa mi chiamanasse... .. ma perché ieri non sono passati... .. e quindi mi sono passati... .. perché qui mi fa questa... .. questa lascia nazionale che si chiara... .. che mi sono passati... .. e l'altra cosa è... .. che è questo? Grazie